Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come disabilitare per sempre la notifica del caps lock ovviamente per quelli che hanno i portateli e schiacciano così il caps lock per mettere la maiuscola esce anche la notifica sullo schermo come puoi vedere è questa qua ovviamente per disabilitare questo comando ci sono due metodi che ti mostrerò in questa guida quindi andiamo prima sul nostro registro di sistema che sarebbe il regedit quindi vai a scrivere qui regedit ti uscirà come editor del registro di sistema ci clicchi sopra avvi così l'editor del registro di sistema vai ad aprire la cartella h key local machine dentro questa cartella apri così la cartella software scendi fino a giù fino a trovare così la cartella policies questa qua e una volta fatto come puoi vedere nella cartella policies c'è quest'altra cartella dell'hp entra nella sua cartella poi a destra ci sono tutti i parametri come puoi vedere c'è anche il caps lock ci clicchi sopra e poi lì al posto di 1 qui c'è il comando 1 metti 0 e fai ok più di qua è finito e questo era il primo metodo ora per il secondo metodo dobbiamo direttamente andare nelle nostre nei nostri programmi di installazione quindi installazione applicazioni vai a scrivere direttamente HP HP troverai così questo programma tu quello che devi fare è disinstallare questo programma e disabiliterai anche la notifica del caps lock se questo video ti è stato utilissimo come disabilitare rimuovere per sempre il caps lock sullo schermo la notifica iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao